Forte determinazione e il lavoro di squadra hanno reso possibile nel centro storico di Sassano e precisamente in Via Vittoria d'Africa la realizzazione di un parcheggio con ben 18 aree di sosta. L'intervento rientra nel piano di riqualificazione urbana messa in sicurezza dell'intera area con opere di abbattimento di strutture vecchie e pericolanti. Grazie alla realizzazione del parcheggio si è consentito anche l'accesso ai mezzi di soccorso come l'ambulanza ed una parte significativa del territorio altrimenti non accessibile. Questa mattina appunto c'è stato il taglio del nastro da parte del sindaco Tommaso Pellegrino e dell'amministrazione comunale. Un lavoro molto importante perché penso che oggi creare dei servizi come un parcheggio nel cuore del centro storico sia molto importante sia per le nostre famiglie che possono avere appunto dei servizi in più e sia per i tanti cittadini che vengono a visitare il nostro Sassano. Inoltre questa è un'opera perché ha dato oltre a una riqualificazione ambientale importante abbiamo messo in sicurezza tutta l'area perché abbiamo demolito una serie di strutture che erano anche pericolanti oltre che fatiscenti e soprattutto consentitemi la maggiore soddisfazione legata al fatto che finalmente tutta una parte significativa del nostro paese oggi potrà usufruire dei servizi d'emergenza come le ambulanze. Le ambulanze fino a qualche settimana fa si bloccavano qui e non potevano accedere perché ovviamente c'era un impedimento, un ostacolo strutturale. Oggi abbiamo eliminato anche quell'impedimento e abbiamo consentito a tutti di poter usufruire anche dei servizi d'emergenza. Quindi devo dire un lavoro che ci tenevamo in modo particolare, era un impegno che avevamo assunto come amministrazione comunale, l'abbiamo mantenuto e quindi siamo oggi particolarmente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto.